Grazie Siamo gli unici in Italia in questo momento, è un progetto che è iniziato ormai da 5-6 anni, siamo gli unici a produrre le nostre maglie, abbiamo un nostro marchio e stasera per ricordare e omaggiare ovviamente Stuart Copland con la nostra maglia abbiamo voluto anche ricordare quando nel 2003, quindi esattamente 20 anni fa, nella notte della Taranta sul palco lui si esibì con una maglia giallorossa già all'epoca e quest'anno abbiamo voluto replicare e ricordare e festeggiare questi 20 anni riproponendo un momento simile E poi la maglia c'è un simbolo del territorio? Sì è così, la caratteristica delle nostre maglie è che ogni maglia ogni anno deve richiamare qualcosa del nostro territorio, della nostra gente, quindi dei nostri luoghi in modo tale quando la squadra gioca sia in casa ma soprattutto fuori casa porta sulla maglia un pezzo di salente Grazie Grazie, arrivederci, grazie